Salve amici del Centrometro Italiano. Secondo le ultime proiezioni dei modelli matematici, il weekend potrebbe nuovamente essere caratterizzato dal ritorno dell'anticiclone. Questo grazie ad un vortice polare estremamente compatto che non permette la possibilità di scambi meridiani sul continente europeo e di conseguenza mantiene temperature più miti anche sulla nostra penisola. Tuttavia nella metà della prossima settimana una lieve ondulazione della corrente a getto potrebbe favorire un veloce ritorno delle piogge e di qualche nevicata sui rilievi fino a quote medie. Al momento non escluso che possa trattarsi di una parentesi instabile molto breve, in quanto l'anticiclone potrebbe tornare a dominare il comparto mediterraneo. Si tratta comunque di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme in seguito. Per tutti i dettagli vi invitiamo come sempre a seguire sia il nostro sito che il nostro canale youtube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.